Si celebra oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quali sono i progetti e come state organizzando la giornata? Allora, noi già il sesto anno che celebriamo questa giornata, come al solito lavoriamo con gli studenti. Stamattina siamo qui dalle 9, saremo qua fino alle 20 di stasera e c'è una mostra in corso, una mostra fotografica, grafico-pittorica a dire il vero. I ragazzi delle scuole superiori hanno creato dei disegni, delle foto e si può votare l'opera più bella. Ci sono degli slogan, delle immagini contro la violenza e già da stamattina abbiamo avuto un buon afflusso di gente, non solo ragazzi ma anche persone adulte. E questa è una cosa molto bella. Sono venute anche delle donne straniere, delle rumene, interessate al corteo che faremo domani alle 17.30. Volevo precisare che questa attività ormai da anni noi la facciamo in collaborazione con le benemerite che hanno una mostra in corso al Chiostro di San Francesco, con la Procivis che è sempre a nostra disposizione per la proiezione di video contro la violenza, video che abbiamo raccolto durante gli anni, che hanno fatto anche i ragazzi, ma anche video di registi emergenti italiani. Un'altra cosa molto bella quest'anno è che l'Aido si è prestata a collaborare con noi volontariamente, quindi vediamo che ogni anno la nostra collaborazione con le altre associazioni riguardo al tema della violenza cresce sempre di più. E questa è una grande soddisfazione. Io approfitto di questa intervista per ricordare che domani alle 17.30 ci riuniremo in piazza Elena per un percorso silenzioso, un corteo silenzioso contro la violenza sulle donne, per ricordare le cento e più vittime uccise dal femminicidio. Quindi invito in maniera accorata tutta la cittadinanza a partecipare. Abbiamo anche coinvolto l'imam musulmano e verrà una rappresentanza dei musulmani a Licata perché deve essere anche un momento di integrazione per accorciare le distanze tra le diverse etnie. Qualcosa di particolare è che il corteo non si snoderà per i corsi principali, bensì all'interno del cuore cittadino. Abbiamo lavorato con la polizia perché noi abbiamo proposto un percorso molto particolareggiato per la Marina, per San Paolo. Passeremo da via Marotta dove sono stati uccisi i coniugi timoneri, andremo nella zona di via Cairoli. Vogliamo toccare le zone un po' più buie della nostra città, in modo tale che anche dalle loro case le persone si sentano incoraggiate a denunciare se ci sono dei casi di violenza domestica. Come stanno rispondendo oggi i ragazzi? Noi siamo veramente soddisfatti dai ragazzi perché i ragazzi sono molto più maturi di quanto pensiamo. Si evince anche dai lavori che fanno, sono molto più profondi di come si pensa, di come i luoghi comuni ce li descrivono. Sono sempre disponibili anche i ragazzi delle scuole medie che in questo momento stanno visitando la mostra. Guardano con molta attenzione e sono molto attenti al problema. Quindi noi speriamo che ci diano un futuro migliore in questo senso. Oggi una non stop per quanto riguarda questa campagna di sensibilizzazione attraverso questo gazebo che è stato qui posizionato in Piazza Progresso. Anche durante l'ora di pranzo non sarà chiuso ma ci saranno ovviamente le volontarie della Croce Rossa, della FIDAP e così via dicendo. Sì, noi saremo qui a distribuire dei gadget, segnalibri e penne. Questa è diventata ormai una consuetudine e non ci allontaneremo da qui fino alle 20 di stasera. Domani mattina ci saranno associazioni della GESCI di mondo giovani e anche variazioni che ci hanno proposto pure loro di collaborare. Saranno qui in piazza a manifestare in qualche modo con delle attività, con canti, un grido corale contro la violenza. Un'altra cosa che volevo dire è che domani nelle chiese sarà letta una lettera di Papa Voitiva, grazie donna si intitola, una lettera scritta nel 1999 per incoraggiare le persone alla denuncia. Abbiamo coinvolto anche le chiese perché sono un punto di raccolta molto importante e anche la chiesa ha il dovere di schierarsi contro il femminicidio. Bisogna sensibilizzare più che altro gli uomini per questo che si invitano soprattutto gli uomini a partecipare al corteo che si terrà domani. Noi abbiamo avuto adesioni e incoraggiamenti anche da parte di molti uomini che ci hanno chiesto l'orario del corteo, anche l'associazione Pro Sant'Angelo a quanto pare parteciperà. Quindi noi ci aspettiamo una partecipazione massiccia perché è veramente un fenomeno che sta massacrando la nostra società e sta brutalizzando i rapporti tra uomo e donna.